Passano i giorni, ma le vicende politiche italiane non sembrano rasserenarsi. Le dichiarazioni di Fini e Berlusconi imperversano sulle tv nazionali, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, la lontananza che separa i due leader del PDL. Il Presidente del Consiglio, nel discorso del 25 aprile, ha improvvisamente offerto all'opposizione il ramoscello d'olivo per fare insieme le riforme che servono al Paese, assumendosi la diretta responsabilità di trattare con il Partito Democratico. La risposta del PD non si è fatta attendere. Bersani non si fida e in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha dichiarato che con questa maggioranza non ci sono le condizioni per affrontare le riforme. Poi spiega, il loro modello di azione non è fatto per decidere, è costruito per accumulare il consenso, ma poi non lo usano per governare. Io ho insomma profonda sfiducia che si voglia mettere davvero mano a qualcosa di concreto. Bersani azzarda che prima o poi, davanti alla difficoltà di decidere, Berlusconi prenderà un pretesto qualsiasi per accelerare, non verso un processo di riforme condivise, ma verso elezioni anticipate. Secondo il segretario del PD, infatti, l'unico interesse del Premier è quello di mantenere intatto l'asse con la Lega, basato sullo scambio, giustizia, federalismo, e non sui temi cruciali per il Paese, come il programma economico da aggiornare alla luce della crisi. Bersani rivendica il fatto che il PD ha già presentato una proposta di riforme sociale ed istituzionali, sulla quale si potrebbe cominciare a lavorare, mentre la maggioranza non ha fatto nessuna scelta, come ha fatto notare lo stesso Fini. Secondo il segretario democratico, la priorità è quindi solo una. A Fini e agli altri interlocutori, ricorda che quando parlava di patto repubblicano, pensava a cose più profonde rispetto ad un cambio di maggioranza. Ad esempio, si può tornare a votare con questa legge elettorale? Si può andare avanti con questo sistema dell'informazione? Possiamo proseguire senza affrontare la crisi economica? Che benefici ci ha portato questa curvatura personalistica della nostra democrazia? Bisogna stringere le maglie per una piattaforma che abbia il sapore di un'alternativa di governo. Dobbiamo essere pronti, perché il Paese sta scivolando. Alla fine dell'intervista, il leader del PD annuncia Stiamo lavorando sul progetto Italia 2011, lanciato nell'ultima direzione. Da lì usciranno le nostre idee per l'alternativa. Una piattaforma che Bersani vuole sottoporre all'attenzione di tutte le forze di centrosinistra. Nella proposta c'è l'esigenza che le forze di opposizione, su alcuni temi cruciali della democrazia e delle priorità economiche e sociali, si rivolgano in modo ampio alle forze sociali, civiche e politiche, che riconoscono l'esigenza di una svolta che avvenga nel solco della Costituzione.